Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Parliamo delle tre peggiori bugie sull'apprendimento che devi assolutamente evitare e che andiamo a smascherare insieme così le inizi a conoscere o a riconoscere se le hai già incontrate in passato. Voglio parlarti di questo perché in generale molti parlano di studio, di apprendimento, ma non tutti lo fanno con cognizione di causa e soprattutto non tutti ci mettono la giusta cautela. Ci sono tantissimi professionisti e meno che ne parlano in modo corretto, in base alla propria formazione. C'è chi invece, un po', non voglio dire in cattiva fede, ma sicuramente non in buona fede, ne parla in modo tale più che altro da convincerti, più che giustificare quello che dicono con magari delle prove o comunque dando il giusto sostegno, anche scientifico o nei casi migliori, a quelli che sono consigli e strategie che così possono essere utilizzate da chi li ascolta. Quindi cosa ne consegue, qual è il risultato di questa circostanza, di queste situazioni? Che c'è una notevole quantità di informazioni da cui si può attingere e quindi che sono disponibili, possono essere utilizzate, però il problema sta nel fatto che ciò che viene consigliato il più delle volte viene venduto come efficace, ma non sappiamo se in realtà lo è, se è vantaggioso o se in realtà è svantaggioso e nei casi peggiori può portare a dei veri e propri danni. Quindi quello che voglio fare oggi è aiutarti a capire cosa funziona e cosa non funziona, nello specifico che cosa devi assolutamente evitare. Quindi non solo che non è efficace, ma può addirittura essere dannoso. Per fare questo quindi voglio proporti tre bugie, l'ho voluta chiamare così perché voglio proprio sottolineare l'aspetto negativo e le conseguenze negative che possono avere è che vengono utilizzate, come ti dicevo prima, più per venderti qualcosa, servizio o solo per venderti una visione particolare della realtà piuttosto che cercare di aiutarti o aiutare in generale chi ascolta queste informazioni. Ok, partiamo subito dalla bugia numero uno ed è la seguente. L'intelligenza è fissa, potremmo dire è quella, quella rimane, rimarrà per tutta la vita e non può essere cambiata in nessun modo. Questa è un'idea ormai passata da molti, molti, molti anni nell'ambito della psicologia perché sostanzialmente l'intelligenza non è una caratteristica della singola persona ma dovresti pensarla un po' come il risultato di quelli che sono i modi attraverso cui quel particolare soggetto entra in relazione con il mondo esterno e quindi non si è intelligenti sempre allo stesso modo per qualunque aspetto. Infatti se magari sei interessato o interessata negli aspetti della psicologia avrai sentito dire che esistono più di una forma di intelligenza e quindi si può essere intelligente in qualcosa e meno intelligenti in qualcos'altro. È il classico esempio per cui siamo portati per magari un certo tipo di sport piuttosto che per un altro o per un certo tipo di attività piuttosto che un'altra. C'è chi piace leggere, c'è chi piace andare a fare corse mattutine e quindi si sviluppano delle abilità in basso a ciò che si fa. E quindi il modo in cui entriamo in relazione con tutto quello che ci sta attorno ci permette di sviluppare delle abilità e quindi essere più intelligenti in quel particolare ambito. Ma questo non vuol dire che se ad oggi non abbiamo nessuna forma di intelligenza spiccata o particolare in un ambito, questo ci può limitare dal poterlo sviluppare in un secondo momento e quindi questo è quello che voglio cercare di farti capire. L'intelligenza non è assolutamente fissa, non solo perché può essere alimentata, possiamo migliorare, possiamo essere più intelligenti in un ambito, ad esempio studiando ma soprattutto facendo in senso generale, ma perché essa stessa non è un valore predefinito. Anche se spesso si calcola con il classico quotiente intellettivo, negli strumenti che vengono utilizzati, che devono essere utilizzati da professionisti, non da chiunque, si è arrivato a capire che non ha senso studiare per arrivare a misurare una sola tipologia di intelligenza, ma più tipi di intelligenza, più settori, potremmo dire, diversi aspetti dell'intelligenza. Quindi questa è la prima bugia che può portarti a sentirti magari inferiore rispetto a qualcun altro perché magari ad oggi non hai le abilità che vorresti avere, ma questo non vuol dire che non puoi svilupparle in futuro. Questa è la numero uno. La bugia numero due, questa è una tra le mie preferite, ed è la seguente. Usiamo solamente il 10% del nostro cervello. Certe volte dicono menti in base al caso, ma è una stupidaggine comunque. Ho dedicato un video a questo argomento perché, come ti dicevo qualche istante fa, mi piace in modo particolare, anche se è una stupidaggine, però è cercare di capire perché queste idee vengono proposte e funzionano. In realtà non c'è nessuna parte del cervello che non viene utilizzata e questo è molto semplice, non c'è bisogno di essere grandi professionisti né neuroscienziati per capirlo. Da un punto di vista, evoluzionistico, non ha senso avere il 90% o l'80% delle strutture cerebrali inutilizzate. Niente nel nostro corpo è lì, tanto per essere non utilizzato. Tutto ha un proprio ruolo. Poi, nello specifico, è stato proprio verificato che ogni parte del cervello, ma in generale di tutto, il corpo ha una propria funzione. Quindi non ci sono delle funzionalità che non vengono assolutamente attivate, a meno che, per citare qualche film o serie tv particolare, utilizzi delle pilloline che ti aiutano. Ovviamente non è questo il caso. Il cervello è sempre tutto in funzione. Una cosa che si può fare per riuscire a utilizzarlo meglio e riprendere un po' quello che abbiamo visto nella bugia precedente è il fatto che ci sono delle possibilità, se utilizziamo le nostre abilità mentali nel modo corretto, per essere più abili, in senso più ampio, più intelligenti. Ma questo non è il risultato di parti del cervello che vengono sbloccate e improvvisamente utilizzate. È che utilizziamo meglio quelle che già sono messe in moto e quindi l'idea che usiamo solo il 10% del nostro cervello è falso. È vero il fatto che possiamo migliorare nel modo in cui utilizziamo quello che utilizziamo sempre che è tutto il cervello, non solo una piccola parte. Questo è quindi la bugia numero due e adesso arriviamo alla terza e ultima bugia per questo video ed è la seguente. Accusire nuove informazioni è un processo arduo e non è garantito, cioè apprendere nuove informazioni è sempre qualcosa di difficile e non sempre riusciamo a comprendere tutto e ad apprendere tutto, perché è un po' più complesso rispondere a chi magari può dirti una cosa del genere, proprio porti questa come una verità assoluta. Cerchiamo di dividere le varie parti di questa bugia. Allora, acquisire nuove informazioni è qualcosa di normale. Lo facciamo da quando nasciamo fino al giorno in cui moriamo, perché acquisire nuove informazioni è il meccanismo alla base della mente che le elabora, una piccola parte le memorizza, moltissime le scarta. Questo non vuol dire che non siamo in grado di apprendere, è che apprendiamo solo quello che ci interessa e quindi è normale che se ti parlo di qualcosa che ti piace, potrebbe essere qualunque argomento, tenderai a ricordare e memorizzare meglio. Quindi hai acquisito nuove informazioni. Se ti parlo di qualcosa che ti annoia, probabilmente non ricorderai niente. Quindi questo già è un meccanismo alla base. Quindi acquisire nuove informazioni è normale e dipende da tantissimi fattori. Alcuni li facilita, quindi facendo l'acquisizione, altri meno. È un processo arduo? Sì, sicuramente è un processo che richiede impegno, richiede soprattutto una certa costanza. Perché? Perché non tutte le informazioni, come dicevamo prima, ci interessano e soprattutto se stiamo studiando una materia che è molto pesante o che non ci piace in modo particolare, potrebbe essere difficile riuscire ad apprendere con la stessa rapidità, per esempio una materia che rientra nei nostri interessi, nei nostri gusti, eccetera. Ma, e poi saremo alla parte finale, l'acquisizione di queste informazioni ti porta a un processo che oltre ad essere arduo, che abbiamo visto è relativo, non è garantito. Se non riesci ad acquisire delle informazioni, il problema non sta nelle informazioni che sono lì, sono state acquisite da milioni di altre persone, quindi puoi farlo tranquillamente anche tu, il problema è il come. Quindi se non riesci, ad esempio, a comprendere un complesso grafico di qualche materia che stai preparando, la cosa importante che devi considerare non è il fatto che il problema sia il grafico, il problema è come devi acquisire quelle informazioni e quindi è questo quello che rende possibile l'acquisizione. Quindi non hai la garanzia di acquisire queste nuove informazioni se non sai come fare. Se sai come fare, il problema non si pone e quindi devi capire che è fondamentale acquisire informazioni e farlo per il tipo di informazione e anche per le tue caratteristiche con le strategie giuste. Quindi se vuoi sviluppare una visione più reale, concreta ed efficace di come si apprende, come si studia in generale e nello specifico a livello universitario ti invito ad iscriverti al canale in cui troverai già più di 400 video in cui spiego tantissimi aspetti, anche delle risposte più approfondite in merito a questi argomenti e se hai altri dubbi o altre bugie che hai sentito dire e delle quali vorresti discutere, fammi sapere nella sezione dei commenti o in privato. Trovi tutti i link che ti interessano in descrizione. Il video di oggi finisce qui, quindi ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani.